buongiorno buongiorno chissà cumminando rimatina mamma mia guarda già ci sono così fritti rimatina ragazzi bella cipurra belli piusse questi non mi piacciono niente completamente ma che è no vabbè chi è sta pignata longa per cucinare questi salvato un libro a mo dove sei e sei da clarissa e sciopero ragazzi messi già rimatina guardate io mi sveglio alle dieci e mezza e trovo tutto così guardate oggi non faccio niente niente buongiorno ma già ti trovo così ma che stai che stai elaborando che stai scelto che sarà ma è bella sta pignata comunque c'è giudici guardate che sta combinando ragazzi guardate che stai che stai facendo mi stai preparando un bel pranzetto a me e chi sta a farlo allora per clarissa per cinzia ma clarissa pronta e ci stai scinnata ma ci scinnisti pronta e più tardi per più tardi che poi chi te ne fa spittare i chiavi e chi sta a farlo capiti ma chi è spuggente che senso ma se non ricorda che più tardi siamo aggiatri no via cairoico ma chi è cangiavo idea ma non può cambiare idea giudicisti che ho messo tutto avvisato i folli persi e lo hai detto e che ti rischi ma c'è il rischio che succeda qualcosa da qua più tardi o no ma ragazzi ci pare sciame vabbè comunque non lo so ora questi dove l'immergerà forse quella pentola enorme questi saranno che mia sette va bene ma posso chiudere questo fantastico video o devi dire qualcosa non devi dire nulla ci vediamo oggi pomeriggio dalle 16 e 30 alle 19 e 30 al giallo via fratelli cairoi 109 ci sono pausi di canizia sì ma io mi stai scinnando di clarissa ma perché mi facisti preoccupare camicisti che è sfuggente anzi ora ci registro un vocale va comunque ma prima che fatto da clarissa cosa hai in mente di fare con queste con questi ingredienti non me lo dici no lo devono scrivere loro allora ragazzi secondo voi vedendo queste cose cosa sta facendo il conte ciavi chi sta già pronta sicuramente mi si può leggere i visti che all'epoca quando l'abbiamo comprata ve l'abbiamo chiesto le abbiamo chiesto ragazzi secondo voi a cosa servirà e poi tutti avete detto asparagi 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 quindi hanno ragione asparagi anche spaghetti anche spaghetti su tutti no ma secondo voi cosa farà queste cose ragazzi scrivetelo comunque ci vediamo dopo a pranzo a pranzo certo ne viveremo no guardate ragazzi guardate come volete vabbè a dopo va a dopo che mi vai di clarissa vediamo chi sta succedendo a dopo a dopo a dopo